Una statua per ricordare le vittime del Covid, ma anche per guardare verso il futuro, con speranza. L'opera, realizzata dallo scultore aretino Enzo Scatragli, è stata inaugurata davanti all'ospedale San Donato di Arezzo, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, del direttore generale dell'ASL Sud-Est Antonio Durzo, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, autorità locali e l'arcivescovo Riccardo Fontana. Con questa opera l'arte si fa testimonianza di tragedia, soccorso, conforto di una comunità assegnata dalla pandemia. Ecco che noi dobbiamo trovare la forza per il rilancio, la forza per guardare al futuro. I vaccini da un lato, la capacità di avere davanti a noi, attraverso quelle che sono faticose restrizioni, ma poi la diminuzione del contagio, sono quelle a cui dobbiamo puntare nelle settimane, nei mesi prossimi, con tanta energia che ci deriva comunque e sempre dalla memoria, dal ricordo di coloro che non ci sono più per questa drammatica pandemia. Sui vaccini anti-covid, il presidente Gianni ha dichiarato che arriverà una fondamentale fornitura di siero Pfizer. Arriveranno 50.000 vaccini e ho disposto del tipo Pfizer, che saranno tutti esclusivamente destinati alla vaccinazione degli ultrottantenni. La fine della cerimonia è stata accompagnata dalla musica di I Walk Up, il brano sull'emergenza covid, realizzato da due medici musicisti, Marco Ferri, direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo, e dal cardiologo dell'ospedale della Fratta di Cortona, Paolo Angori. Grazie.